OST 2023 continua, ci troviamo allo stel di Mundial Framec SPA, un'azienda tutta italiana che realizza e distribuisce attrezzature refrigerate ma non solo per la ristorazione e siamo in compagnia del direttore commerciale dell'azienda Diego Caponigro Diego benvenuto Grazie Fabio e grazie a tutti i tuoi spettatori Io sono venuto con un grandissimo piacere anche perché ho notato che nel vostro doppio stand perché avete due stand e tra poco spiegheremo anche per quale motivo avete tantissime belle attrezzature intanto però facciamo la storia di Mundial Framec in un minuto Sì, grazie per i complimenti Mundial Framec è composta da due brand sono due storici brand Mundial che si rivolge a una clientela attenta all'ampiezza di gamma e al giusto rapporto qualità prezzo Framec invece è attenta al professionista che vuole design, estetica e performance e andiamo con questi due brand a coprire quella che è la fascia media di mercato Mundial Framec diciamo che in ogni caso hanno unito i due nomi per formare quello della ragione sociale dando però una copertura davvero larghissima al target a cui vi riferite Sì, quello proprio che vogliamo fare la nostra strategia è quella di servire lo stesso cliente ma con due posizionamenti di mercato differenti il brand che diciamo fa riferimento sempre alla fascia media ma guardalo, guarda con occhi alla fascia premium è il brand Framec mentre abbiamo il brand Mundial che come dicevo prima con la sua grandissima ampiezza di gamma strizza l'occhio a tutti quei rapporti a quei prodotti che devono avere un rapporto qualità prezzo veramente conveniente Quali sono le categorie a cui vi rivolgete? Le winery, ice and pastries e quante altre? Il brand Mundial diciamo che ripercorre quello che è proprio anche il suo logo Mundial è composto da 5 icone quindi noi spaziamo dal settore dell'ice and pastries beverage, market, wine, catering abbiamo quindi prodotti quest'anno portiamo molte novità per ogni settore per rivolgerci a quella clientela che ha bisogno di un fornitore poliedrico dal quale attingere e prendere il prodotto migliore che c'è sul mercato Possiamo dire che voi non fate solo produzione, macchinari ma in fondo date un servizio? Sì, dobbiamo differenziarci da quello che è la clientela oggi il 2023 il mercato è un mercato veramente duro e quindi noi dobbiamo dare un servizio ai nostri clienti e partiamo dal concepire prodotti che possano avere anche un'attenzione a chi sono gli utilizzatori studiamo accessori per esempio nelle nostre vetrine che possano essere utilizzati dai nostri clienti con l'occhio del cliente questo è uno degli obiettivi che ci prefissiamo con il marchio Framec ci rivolgiamo a una clientela soprattutto e più intensamente gelateria e portiamo un concetto il nostro concetto strategico è quello del simplify your business quindi dare ai nostri clienti la possibilità di creare punti vendita gelateria start up, franchising con dei budget che sono contenuti attualmente per realizzare un locale possono anche volerci 100.000 euro ma non tutti hanno quel budget e quindi noi vogliamo aiutare i clienti e i clienti dei nostri clienti perché no a realizzare il proprio sogno magari con un budget contenuto e con delle attrezzature Framec quindi un servizio tailor made per dirla un po' come nel caso del marketing puro e chiavi in mano sì, volendo i nostri clienti perché è bene chiarire che noi ci rivolgiamo a una clientela di rivenditori di attrezzature, di progettazione di arredatori possono con tutti i prodotti presenti nella gamma Framec creare un punto vendita gelateria quindi il pozzetto la vetrina gelato l'armadio di stoccaggio la vetrina espositiva tutto quello che occorre per un punto vendita che bella cosa io voglio dire sentendolo parlare e guardando poi le varie attrezzature esposte alcune delle quali avrete avuto modo di vedere anche voi negli scorsi minuti mentre lui ne parlava beh, lo dico mi brillavano gli occhi tanta tecnologia tanto know-how tutto italiano a disposizione di coloro che desiderano implementare o costruire ex novo delle attività commerciali in Italia in Europa nel mondo e allora Diego per tutti coloro che sono all'altra parte desiderano entrare in contatto con voi per richiedere maggiori informazioni senza alcun impegno e chissà magari chiedere un preventivo sempre senza alcun impegno qual è l'indirizzo a cui poter scrivere info chiocciola mondialframec.com poi vi invitiamo a vedere i nostri siti a visitare i nostri siti mondialframec.com dove troverete le due divisioni quindi il sito dedicato a Mondial il sito dedicato a Framec e così sulle nostre pagine social LinkedIn Facebook e Instagram Diego è stato davvero un piacere conoscere meglio la Mondial Framec che già conoscevamo abbastanza bene per le tante attività svolte in passato nel frattempo non posso che dirti grazie per il contributo grazie a te a tutti i tuoi spettatori e che dire vi salutiamo dal Monferrato